Tegola sul campo basso, infortunio abbastanza serio per Pietro Ladu, il metodista resterà fuori per diverse settimane, infortunio alla spalla che verrà risolto probabilmente con un intervento chirurgico. Non ci voleva anche perché Ladu aveva preso pieno possesso del centrocampo rosso-blu, il play che fa girare tutta la squadra, insomma un elemento indispensabile. Società pronta a tornare sul mercato, ad intervenire perché tra un po' si inizia a fare sul serio il 21 esordio in Coppa Italia contro il Grosseto, poi il 29 agosto il campionato con la prima al Partenio contro l'Avellino già affrontato in amichevole. Intanto domani sgambatura a Montenero di Bisaccia contro la primavera del Pescara, ultimo test prima dell'esordio nella nuova dimensione con mister Cudini che proverà uomini e schemi.